L'ansia è la cifra psicologica dei giovani d'oggi. Vivono con ansia la scuola, lo sport, le relazioni con gli altri, sentendosi costretti ad eccellere ovunque. Uno stress molto simile lo vivono anche gli adulti, assillati dall'asmania di avere sempre di più, di essere sempre più popolari, di tenere tutto sotto controllo, compresi i giudizi degli altri, per non perdere il loro like. E questo è vero nelle mille situazioni di ogni giorno, non solo al lavoro o più in generale nella società, ma talvolta anche nelle relazioni più familiari e più intime, dove in qualche modo ci pesano e facciamo pesare agli altri quelle aspettative che ci portiamo dentro, per cui sia al lavoro che a casa devo essere impeccabile, per cui mi aspetto da te e che tu ci sia sempre e sempre con il sorriso, per cui il rendimento dei figli a scuola e non deve essere al top. Un po' tutti oggi rischiamo di essere vittime di un io troppo ingombrante, che ci fa sentire al centro del mondo come se tutto dipendesse da noi. Servirebbe una sana dose di umiltà per rimettere in ordine le cose, per neutralizzare il veleno dell'ego, per renderci consapevoli di quello che siamo realmente una piccola parte del tutto. Tanto vale un uomo quanto vale davanti a Dio, diceva San Francesco. Se riuscissimo davvero a recuperare questa dimensione bambina di noi, sentendoci accompagnati e custoditi da un Dio che non pretende da noi nessuna prestazione da supereroi, probabilmente avremmo una maggior pace interiore. Probabilmente vivremo senza ansie di prestazione o sempre alla ricerca di consenso e conferme all'esterno. Perché? Perché sì, lo sguardo del Padre ci basterebbe, perché la sua tenerezza ci farebbe sentire più importanti, importanti semplicemente per quello che siamo, per come siamo, anche con quei difetti che abbiamo e che fanno parte della vita di ognuno di noi. Sant'Antonio, grande teologo, che ha camminato accanto agli ultimi, ci aiuti ad accoglierci con un po' più di semplicità e di leggerezza.